Due nuovi casi positivi al coronavirus e un paziente guarito. Il bilancio dell'ultimo bollettino dell'ASREM, 154 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. I positivi sono una persona di Campobasso e una di gamba tesa. Quest'ultima è ricoverata a malattie infettive dove si trova pure la paziente di Santa Gapito e invece guarito un paziente di Filignano. Gli attualmente positivi sono 88, di cui 75 della provincia di Campobasso, 13 di quella di Isernia. Sale dunque a 5 il numero dei pazienti ricoverati a malattie infettive. C'è anche un dipendente del Gemelli Molise tra le persone risultate positive al coronavirus. Già da qualche giorno non stava lavorando ma non appena è stata accertata la positività a scopo precauzionale sono stati sottoposti a tamponi il personale e i pazienti entrati in contatto con la persona risultata positiva. Al momento, spiegano dal Gemelli, nessuno presenta sintomi e la situazione è sotto controllo. L'ospedale ha sempre adottato tutte le misure necessarie per prevenire i contagi, compresi i test sierologici e l'utilizzo delle mascherine in modo da assicurare la massima sicurezza possibile. Intanto, la Scuola Calcio Mirabello, con un post pubblicato su Facebook, fa sapere che è un proprio tecnico risultato positivo al covid. Il contagio, si legge nel post, è avvenuto in una situazione extracalcistica. Al momento, nessuna persona della società risulta interessata con sintomi da covid-19, l'ASREM è al lavoro per ricostruire la catena dei contatti. È un caso, ha interessato anche la casa di riposo alla residenza dei saggi di Monteroduni. Una donna originaria di Santa Gapito, ospite della struttura, era stata accompagnata per una sospetta frattura al femore al pronto soccorso di Iserni, è stata sottoposta a tampone e prericovero ed è risultata positiva. La donna sta bene, asintomatica, che sta seguendo tutti i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. Fanno sapere della struttura per anziani, mentre l'ASREM si è prontamente attivata e ha già effettuato i controlli sul personale e sugli ospiti della struttura.